Si è appellato al buonsenso dei cittadini il presidente di AZSPA Paolo Reginelli, che ha ricordato quanto possa essere pericoloso non smaltire in modo corretto i dispositivi di protezione usati da persone contagiate dal virus. Abbandonare ovunque capiti le mascherine chirurgiche e i guanti monouso è scorretto, ha detto il presidente. Certi comportamenti incivili non sono tollerabili e devono terminare. Intanto ci troviamo di fronte ad una situazione nuova, ci troviamo di fronte ad avere un rapporto con degli oggetti, delle cose che fino a due mesi fa erano impensabili o comunque non facevano parte della quotidianità. Purtroppo faranno parte sempre più della quotidianità il rapporto che abbiamo con i guanti monouso, con le mascherine monouso o anche lavabili, quelle con i filtri, quindi tutta una serie di oggetti che molte volte vengono in qualche modo classificati male e quindi non riciclati come si dovrebbe. I dispositivi di protezione, ricorda Reginelli, devono essere conferiti nell'indifferenziato insieme ad altri rifiuti non riciclabili. A meno che guanti e mascherine non siano stati utilizzati da persone risultate positive o che si trovino in isolamento precauzionale. Per loro infatti vi è una soluzione diversa che prevede l'utilizzo di kit monouso, composto da sacchi e nastro adesivo, consegnati a domicilio dagli operatori di Aset. Il ritiro del materiale avviene poi due volte a settimana per avviarlo a uno specifico smaltimento. Abbiamo visto anche i risultati della raccolta differenziata che sono dei risultati stratosferici da questo punto di vista per una città di 60.000 abitanti. Quindi c'è una forte educazione. Vorremmo che ci fosse un po' più di pazienza e quando ad esempio si esce dai locali dove in qualche modo c'è la vendita di alimentari, di frutta, di verdura, si faccia attenzione a come conferire ad esempio i guanti, come conferire le mascherine di cui ne faremo un uso massivo sempre più d'ora in avanti e quindi di portare avanti questa sorta di attenzione maggiore. È un materiale che va conferito nell'indifferenziato, lo ripeto, e quindi si chiede solo questo. Si appella un po' al buon senso. Al buon senso che già è molto presente nei cittadini fanesi e anche dei comuni che amministriamo che in qualche modo è quali rendiamo questi servizi. È solo un'ulteriore presa di posizione perché avremo a che fare con un veramente massivo utilizzo di questo materiale.